Quando penso al 8 giugno del 1992, tutto è nitido e sorprendentemente chiaro nella mia memoria. Il terreno cede, sta franandosi su un po' del neve che nasconde un crepaggio, sto affondando nella montagna, sto cadendo, sento la corda che mi lega mai tendersi dietro di me, la corda che mi lega Gene si tende improvvisamente e mi sbilancia davanti, perdo l'equilibrio, nel tragitto che mi separa la terra faccio a tempo scorgere Gene. Grazie.